Sempre domani ricorre l'anniversario della più grande strage di cristiani in Africa. Parliamo del massacro di Debre Libanos, il santuario più importante della chiesa etiope. Una storia che ci chiama in prima persona perché a Comperla sono stati dei soldati italiani. Con noi in studio Antonello Carvigiani, Antonello bentrovato, collega di TG2000. Che cosa è accaduto nel maggio del 1937? Buonasera Fabio, buonasera a tutti. Nel maggio del 1937 c'è quella che tu hai definito giustamente la più grande strage di cristiani mai avvenuta in Africa. Si tratta di una ritorzione, di una vendetta da parte del vicere di Etiopia, il maresciallo Graziani, l'uomo a cui Ussolini aveva affidato il governo dell'Etiopia, che subisce un attentato nel febbraio del 1937. Lui ne esce solamente ferito e si vuole vendicare, identifica nella chiesa d'Etiopia, in particolare nel santuario di Debreli Banos, coloro che sono dietro l'attentato. Quindi senza prove, senza nessun indizio, ordina al generale Pietro Maletti di annientare questo monastero, di uccidere tutti i monaci, tutti i diaconi e anche i pellegrini che si recano lì per una grande festa della chiesa ortodossa. Il 20 di maggio è la festa dell'Arcangelo Gabriele di Sant'Eclea i Manot e appunto Maletti esegue quest'ordine e secondo le cifre ufficiali riferite appunto da Maletti uccide 452 persone, anche se gli storici moderni dicono che siano circa 2000. È una strage sconosciuta di cui ci siamo tanto occupati noi in quest'ultimo anno e che va appunto raccontata, conosciuta, perché ci chiama in causa direttamente. Antonello, tu sei l'autore di un documentario, di uno speciale dedicati proprio a questo ecidio e che TV2000 trasmetterà stasera e domani, in particolare stasera alle 20.30, nuovi documenti che se non sbaglio hai con te, dimostreranno per la prima volta quali beni dal grande valore culturale, religioso e storico sono stati saccheggiati. Sì Fabio, i documenti li ho qui con me, sono questi quali faremo vedere stasera per la prima volta, sono documenti inediti, sono di grande importanza perché al di là, oltre il lutto per le morti di cui dicevamo prima, c'è un altro aspetto che è quello proprio del saccheggio dei beni etiopici a Debre Libanos come nelle altre parti del paese per la nostra occupazione. A Debre Libanos è particolarmente importante perché, come dicevamo prima, è un santuario che è l'anima della Chiesa Etiope. Rubare oggetti sacri da questo santuario significa portare via, come dire, la parte più profonda, più importante legata appunto al cristianesimo etiope. Restituire questi beni è quello che chiedono i monaci di Debre Libanos oggi, noi siamo stati lì l'anno scorso e ci dicevano proprio questo, riconciliazione sì, ma ridatici i nostri beni. Qual è l'elenco dei beni? Non si sapeva finora. Noi siamo in grado di mostrare qual è questo elenco e stasera lo faremo vedere. Ricordiamo l'appuntamento, doppio. 20.45 questa sera con speciale TGTG, studio Nicola Ferrante e Marco Impagliazzo con questi nuovi documenti. Domani alle 18.50 il nostro docufilm firmato da me, Andrea Tramontano e Dolores Gangi. Grazie, complimenti.